Cosa fanno ancora a scuola? Ho chiuso a chiave la porta. Erano ancora lì dentro? E cosa facciamo adesso? Esploriamo un po' la scuola. Ci sono sicuramente ancora posti qui che non conosciamo. O cosa ne pensate ragazzi? Dovremmo farlo. Dicono che dovremmo andare nel seminterrato. Forse è inquietante lì. Ma ho paura del buio. Non importa a nessuno, Samuel. Dobbiamo dare agli spettatori ciò che vogliono. Bene, allora andiamo in cantina. Em, perché c'è un odore così cattivo qui dentro? Ha un odore peggiore del bagno della nostra scuola. Penso che dovrò vomitare presto. Anch'io. Voglio tornare a casa. L'hai sentito anche tu? Sì, veniva da laggiù. Che cos'era quello? Non ne ho idea. Ma i nostri telespettatori vogliono che lo guardiamo. Cosa ne dite? Dovremmo andare lì. Tutti dicono di sì. Lisa. Ok, con mille like. Ecco dove andiamo. Siamo già alle 800. Oh cavolo, è davvero eccitante. Il video deve assolutamente piacermi. Speriamo di ottenere i mille like. Amico, hai visto cosa sta succedendo con Lisa e le sue amiche? No, cosa stanno facendo? Sono ancora a scuola. C'è qualcosa nel seminterrato. Metti mi piace al video. Poi scopriremo di cosa si tratta. Ok, lo farò. Abbiamo mille like Lisa. Ok ragazzi, siete pronti? Dovremmo davvero farlo? Penso che sia troppo pericoloso. Qualcuno sa cosa c'è lì dietro? Non bagnarti, Samuel. Abbiamo bisogno di più abbonati. Vai adesso. C'era di nuovo quel suono. Sembra davvero pericoloso. Forse dovremmo davvero rimanere qui. No, stiamo entrando adesso. Resterò qui a guardare la telecamera. Fallo, cretino. E voi altri venite con me? Sì, ci sto. Puoi dire tutto quello che vuoi. Ma il video è davvero emozionante. Cosa pensi ci sia in cantina? Oh mio Dio! Non è un mostro. Ma allora cos'è? È il nostro custode Jerry. Russa solo rumorosamente. Grazie a Dio è solo Jerry. Pensavo ci fosse un mostro a scuola. Perché Jerry dorme qua giù? Non ne ho idea. Possiamo chiederlo a lui. Ehi Jerry, svegliati. Bambini, cosa state facendo qua giù? Non dovresti essere qui. Cosa stai facendo qua giù Jerry? Vivo qui. Puoi toglierti le scarpe per favore. Stai sporcando il pavimento. Non hai una casa? No, purtroppo non più. L'affitto è diventato semplicemente troppo costoso. Non potevo più permettermelo. Aspettate un attimo. Ho un'idea. Cavolo, povero Jerry. Anch'io mi dispiace molto per lui. Era sempre così gentile con noi. Forse possiamo fare qualcosa per aiutarlo. Ehi ragazzi, sono di nuovo Lisa Loco. Questo è Jerry dietro di me. Saluta le persone. Jerry. Uh ciao ragazzi. Jerry non ha soldi per una casa. Ecco perché dorme nel seminterrato della scuola. Stiamo facendo una campagna di raccolta fondi per lui adesso. In modo che possa comprarsi una casa. Wow, sarebbe il mio sogno. Grazie Lisa. Nella descrizione del video c'è un link dove puoi fare una donazione per Jerry. Fai una donazione il più possibile. A presto. Pensi davvero che funzioni? Non lo so. Lo scopriremo presto. Lisa, l'hai già visto? Cosa stai facendo qui Samuel? Lasciami dormire. Hai visto quante persone hanno donato a Jerry? No, quanto? Dovrai vederlo tu stesso. Altrimenti non mi crederai. Quel numero è reale. Hanno davvero donato 100.000 euro? Sì, a quanto pare lo fa. Con esso possiamo comprare a Jerry la casa dei suoi sogni. Sì, sicuramente. Chiama gli altri. Samuel. Il nostro nuovo video sarà il prossimo successo. Ehi ragazzi. Perché dovrei venire qui? Ciao Jerry. Abbiamo una sorpresa per te. Andiamo da MacGermans? No, molto meglio. Ecco le chiavi. Le chiavi di cosa? Bene. Le chiavi della tua nuova casa. Sei serio a riguardo? Sì. Dai. Ti mostreremo l'interno della casa. Benvenuto nella tua nuova casa, Jeffrey. Sei serio a riguardo? Tutto qui mi appartiene? Sì. Devi ringraziare i nostri abbonati. Hanno pagato tutto. Grazie ragazzi. Non so cosa dire. Mi hai cambiato la vita. Grazie a tutti coloro che hanno donato, ragazzi. Tra qualche settimana. Ti aggiorneremo su come Jeffrey si sta divertendo qui. Fino ad allora, iscriviti al nostro canale e dai un pollice in alto al video. Ok Jeffrey. Torneremo tra qualche giorno. Divertiti nella tua nuova casa. Pazzesco. In realtà hanno comprato una casa a Jerry. Non pensavo che sarebbero stati in grado di farlo. Ho persino donato 10 euro. Non pensavo che i nostri fan avrebbero donato così tanto. Nemmeno io. Ma la gente ci ama. Torniamo a casa e pianifichiamo i prossimi video. Ho già qualche idea su cosa possiamo fare. A che tipo di video hai pensato, Samuel? Dobbiamo sempre inventarci cose nuove. In modo che le persone continuino a guardare i nostri video. Che tipo di video faremo dopo? Le persone che si fanno scherzi a vicenda ottengono il maggior numero di click. La gente lo chiama scherzi. Quindi dovremmo ingannarci a vicenda? Sì, è solo che nessuno dovrebbe farsi male. Quindi emotivamente sì, ma non fisicamente. Ok, ci sto. Anch'io. Cominciamo domani. Samuel, aiuto. Samuel, per favore aiutami. Veniva dalla stanza di Lisa. Devo raggiungerla subito. Spero che Lisa stia bene. Sembrava in pericolo. Perché è così scivoloso qui dentro? C'era qualcosa per terra. Bene Samuel, come ti senti? Non va bene. Mi fa male il braccio. Il finale è in arrivo. Dai un'occhiata. Va bene. È stato il mio primo scherzo. Che ne dici se devo usare più uova la prossima volta? Te ne pentirai, Lisa. Fino alla prossima volta. I vostri Lisa Loco e Samuel suncine. Ah, è stato davvero divertente. Speriamo che Samuel si vendichi di Lisa con uno scherzo ancora più severo. Sì Sara, cosa c'è? Ehi Marcus, puoi venire da me per un minuto. Certo, ma perché? Vogliamo pianificare il prossimo video. Arrivano anche Lisa e Samuel. Ok, arrivo subito. Gli altri hanno già un piano per il prossimo video. Sono entusiasta di vedere cosa faremo questa volta. Ma non mi importa davvero. La cosa principale è che divento famoso e posso comprare la mia Ferrari. Sara, sono qui. Dove sei? Hai già iniziato senza di me? Perché vogliono che io venga qui e poi non ci sia? Da quando Sara ha un cane? Il cane è arrabbiato. Devo andarmene subito da qui. Ti prego, non mangiarmi. Ti prego. Lasciami vivere. Non voglio morire. Bello, siediti. Ehi ragazzi, che succede? È Sara Sweet. Dai un'occhiata a Marcus Maccheroni Wimp. Si è appena bagnato. Ehi, non è vero. I miei pantaloni sono asciutti. Attendo con ansia il prossimo scherzo. Sarà ancora più folle e divertente. Te lo prometto. A presto. Hai esagerato, Sara. Sai che ho paura dei cani. Il video riceverà molti click. Sì, è perfetto. Preparati per qualcosa, Sara. L'hai visto? Sì, che perdente. Come puoi avere tanta paura di un cane? Samuel, abbiamo un problema. Che succede? Sara mi ha preso in giro. Anche tu? Lisa mi ha fatto uno scherzo e mi ha lanciato un uovo in testa. I due stavano completamente esagerando. Dobbiamo vendicarci di loro per questo. Ok, hai un piano? Sì, riavranno tutto due volte domani. Andiamo a scuola in bici oggi. Perché papà può darci un passaggio? Incontriamo Marcus e sarà lungo la strada. Quindi possiamo pianificare i nostri prossimi video. Sì ok, perché no? Hai già idee per nuovi video? Quello con gli scherzi è davvero ben accolto. Penso che dovremmo andare avanti. Penso che dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo. Altrimenti, sarà troppo noioso per i nostri telespettatori. Forse Macaroni ha ragione. Possiamo anche provare qualcosa di completamente nuovo. Che cos'era quello? C'è qualcosa che non va con la mia gomma. Ah! Oddio, Samuel. Samuel, mi senti? Penso che sia incosciente. Dobbiamo chiamare subito un'ambulanza. Ospedale di Monaco. Salve. Salve, sono Sarah Sweet. Il mio amico Samuel ha avuto un incidente. Abbiamo bisogno subito di un'ambulanza nella foresta verde. Ok, ti mando qualcuno. Resisti lì. Un ragazzo ha un disperato bisogno del nostro aiuto. Cosa è successo? Ha avuto un incidente. In bici. Dove si trova? È nel bosco. Ok, saliamo sull'elicottero. Samuel, ti prego. Aspetta. C'è una luce alla fine del tunnel. Devo andare lì? No, Samuel. Non andarci. Resisti lì. I dottori saranno qui. Mi dispiace davvero. Ma le ferite di Samuel sono molto gravi. Non possiamo più salvarlo. Ma ci deve essere qualcosa che possiamo fare. Non possiamo lasciarlo morire. È connesso a un dispositivo. Questo gli permette di sopravvivere ancora per qualche ora. Non appena spegniamo il dispositivo, si allontana da noi. Ci sente? No, probabilmente no. Ma puoi andare da lui e provare. Non ci posso credere. Samuel, svegliati per favore. Non so come immaginare la vita senza di te. Abbiamo bisogno di te, Samuel. Come facciamo a realizzare i nostri video senza di te? Tutti amano Samuel Sunshine. Samuel, torna indietro per favore. Sei il mio unico vero amico. Non riesci a sentirci. È già troppo tardi. Penso che dovremmo seppellirlo. Ci siamo riuniti qui oggi per salutarci. Addio Samuel. Eri un amato figlio, fratello e amico. Ci mancherai. Qualcuno ha altro da dire? Non ti dimenticherò mai, Samuel. Sarai sempre nei nostri cuori. Eri la migliore amica del mondo. Che succede amici? È Samuel Sunshine. Benvenuto nel miglior scherzo del mondo. Guardate le facce. È uno scherzo. Stai bene? Sì, certo. Cosa ne pensi, Sister Eart? Dici che sei pazzo. Eravamo davvero preoccupati. Rilassati ora. È solo uno scherzo. Ah, ingannato. Chi è il perdente adesso? Lo sapevi. Sì, certo. Sei davvero malato. Forza, Sara. Andiamo. Verrò comunque pagato correttamente? Quanti soldi donano i fan? A. 1000 euro. B. 10.000 euro. C. 100.000 euro. Lascia un commento. A. Grazie a tutti